E' stato trovato ieri, senza vita, Salvatore Iaco, nel 55enne vittoriese, che era scomparso da casa nel giorno di San Silvestro. Le ricerche continuavano ormai da giorni e i familiari non avevano mai perso le speranze. Il corpo purtroppo è stato rinvenuto in un aranceto in contrada Piraino, nelle campagne Casmenè, con un sacchetto di agrumi accanto. A fare il ritrovamento, durante le prime ore del mattino di ieri, un uomo che si era recato a raccogliere le arance. Il magistrato di turno ha ora disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Dopodiché il corpo, sul quale non sono stati riscontrati segni di violenza nell'ambito dell'ispezione cadaverica, sarà restituito alla famiglia per i funerali. Si suppone che l'uomo, mentre raccoglieva gli agrumi, possa essere stato colto da malore, forse causato dalle patologie debilitanti di cui soffriva, tra cui frequenti crisi epilettiche e della probabile mancata assunzione dei farmaci. Iacon era privo di cellulare e probabilmente, anche se avesse cercato aiuto, nessuno lo avrebbe sentito, visto che nella zona rurale ci sono pochissime abitazioni, tutte parecchio distanti dall'aranceto.